Un gruppo di giovani laureati di Agropoli avvertono un'esigenza mondiale, creare qualcosa che fosse il riflesso della voglia di combattere il nemico invisibile. I sei amici allora si connettono e avviano la progettazione di un prodotto all'avanguardia, Imotep, mascherina biomedicale di silicone ipoallergenico. A differenza di quelle tradizionali, le Imotep hanno il vantaggio di essere praticamente eterne anche grazie al filtro intercambiabile realizzato in tessuto non tessuto che può essere cambiato al costo di 50 centesimi. La protezione è la stessa della mascherina FFP2 e FFP3 realizzata la mascherina hanno avviato la procedura di certificazione come dispositivo di classe 1 in accordo alla normativa CE. Il team di lavoro è composto da Stefano Cammarano, Paolo e Enrico Malandrino, Marco del Sorbo, Raffaele e Pasquale Lopardi che grazie alla sinergia con una realtà industriale veneziana già affermata a livello nazionale hanno creato questo prodotto sicuro e innovativo. La mascherina permette di indossare gli occhiali senza appannarli, è ultramorbida grazie alla sua struttura 100% in silicone, mai più solchi sul viso. Grazie ai pratici filtri intercambiabili permettono di allungare la vita utile del prodotto. Una speciale guarnizione permette di avere un'aderenza totale sul viso. È tutto made in Italy, spiega Stefano Cammarano, 22 anni, laureato in Ingegneria Informatica all'Università di Salerno. Vogliamo contribuire alla ripresa del paese in tutta sicurezza. Le mascherine con 30 filtri sono in commercio su www.cspitaly.it e costano 35 euro a pezzo.